I fans regalano i biglietti per Tananami a Edoardo Donnamaria per andarci con Antonella Fiordelisi, ma. Se loro non sia del migliore, sono ufficialmente separati. E forse perché probabilmente lui aveva altri impegni, è nato il problema dei biglietti. Edoardo Donnamaria cosa fare dei biglietti per il concerto di Tananami? E quindi nato in rete il problema di cosa fare dei biglietti per il concerto di Tananami? Ovviamente l'importante per Edoardo Donnamaria è che questi biglietti non vadano perduti perché sarebbe un peccato. E quindi cosa farne? E come potete sentire Eodardo in diretta su Radio Z RTL 102,5 ha pensato bene di regalare questi biglietti nelle modalità che ovviamente sta studiando per. Riuscire a trovare i vincitori. I biglietti di Tananai per Milano se tu non vai, capito? Come? Vabbè, questo vado adesso. Li vendi, li regali? Perché se non ci vai tu ci vado io. No, che vendo? Sono stati un regalo, non li posso vendere. Non ci possono vendere i regali? Troverò, troverò, no, come? Ma che modo è? Si possono riciclare i regali, scusami? Sì, infatti si possono riregalare. Adesso vediamo di praticare uno scambio alla pari, uno scambio equo, in modo che non sia un regalo sprecato, non mi preoccupare. Grazie.